Sensor in Motion Il mio nuovo progetto discografico dove ho cercato con ambizione e in maniera innovativa di scrivere nuovi brani che potessero permettere all'ascoltatore di viaggiare insieme a me per un'ora. È un viaggio vero e proprio perché scavo all'interno di me tutte le emozioni che provo quando vivo determinate situazioni, però ho utilizzato nuovi processi compositivi in quanto non solo narrativi come ho fatto finora anche negli ischi precedenti. Ho utilizzato anche la teoria degli insiemi per cercare di dare anche sensazioni di sorpresa durante il brano. Ho coinvolto i musicisti con cui collaboro da sempre utilizzando anche la collaborazione di due carissimi amici che sono anche dei guest Fabrizio Mandorini al Sassofano Tenore e Marco Tamborini al Tromba. I processi compositivi di brani per modo verticale o di insieme portano ad avere sia da parte dell'ascoltatore che del musicista un'attenzione maggiore perché si susseguono una serie di strutture armoniche che rendono il lavoro sempre più interessante. sia per chi ascolta che per chi esegue che deve volta per volta interiorizzare una nuova struttura. Questo lavoro che ho pubblicato da questa nuova possibilità di ascolto e che mi ha dato la possibilità di evolvermi all'interno della composizione è stata una ricerca lente e attenta che dal precedente disco mi ha portato oggi ad esprimermi anche meglio e forse in modo nuovo, in modo più adatto a me. Un passo indietro, un passo inverso rispetto al precedente album è Sound Sovarax e Valli dove c'era una narrazione vera e propria in maniera contestuale di una serie di storie e di situazioni accadute nella valle dove sono nato e cresciuto. Questo disco invece non descrivo delle situazioni ma ciò che mi hanno scatenato dentro con le vere e proprie emozioni sensoriali, in mancato il titolo. L'etichetta che ha pubblicato di nuovo e che mi ha confermato per la seconda volta consecutiva è la 12 June Records. All'interno di questo album ci sono dei musicisti che collaborano con me oltre a me che sono autore e contrabassista Cristian Capraresi al pianoforte Francesco Santopinto alla batteria Pierpaolo Tollosa al sax e come dicevo appunto guest sono Marco Tamburini alla tromba e Fabrizio Mandolini al sax tenore. Grazie a tutti! Grazie a tutti!